Buonasera Feltri, senta cosa ne pensa dei milioni di giovani italiani che fuggono all'estero? E' allarmante no? Sì certo è allarmante, pensare a tutti gli altri che rimangono qui No, 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 perché? Appesi ai coglioni come Tarzan alla liana No ma non usi questo Solo che aaaah lo facciamo noi Sì, non inizi per favore non usi questa espressione All'inizio cosa? Ma no ma E' fattuale, i giovani vanno cacciati via tutti perché sono un pericolo per la società No, no, no Bombati di droga Ma 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 Imbrattano i muri con le bombolette anche quelle piene di droga Ma qualcuno lo fa Fanno le orge all'università piene di droga Ma cosa dice? Io trovo tutti i giorni un ascensore pieno di giovinastri che ci fanno i rave Ma dove? Un ascensore? E ingoiano i pulsanti della bottoniera come pasticca di ecstasy Ovviamente non è vero Ma è vero sì Generalismo I giovani sono così No E da 68 che mettono a ferro e fuoco l'Italia ubriacandosi con l'acido della batteria delle auto Cosa sta dicendo? Ma no ma no ma no Bucano le ruote dei passeggini ai giardinetti No mai fatto nessuno Mettono il piragna nelle fontane dei pecchiosi Ma Scambiano i segnali stradali Ma non è vero Mettono il guinzaglio al nonno e poi lo abbandonano in autostrada Ma quando mai? Ma cosa si sta facendo? Una cosa, una descrizione che non esiste, non inventa tutto Ma no inventa lei, ma che cazzo dice? Io non invento niente Ma no I giovani sono dei carnefici Ma quando mai? Che da piccoli ti tolgono il sonno piangendo Che ho capito E da ragazzi te lo tolgono rientrando in casa alle 3 del mattino Vabbè ma è la loro vita Altro che il terrorismo e il giovanismo la vera piaga del paese Le ONG facessero un vero gesto umanitario scaricando in Francia anche i nostri giovani Ma no Non solo i bingo bongo che si fanno l'off bot a sbaffo Ma cosa? Ma quali l'off bot a sbaffo? Ma tra l'altro la Francia ci ha dichiarato guerra perché la comanda Macron Ma cosa c'è? Perché è un giovane Ma no ma no cosa c'è? Non sarebbe successo se al governo ci fosse stata l'ultrasecolare moglie Brigitte Ecco però non le insulti grazie Ma un complimento Ma un complimento Ma poi per forza i francesi non hanno problemi a far sbarcare le orde di mangia banane Può non chiamarli così? In Francia l'unica cosa bella da salvaguardare è la gioconda Ma non è vero Che hanno rubato a noi Questo è vero però L'attore Eiffel è solo un traliccio del telegrafo obeso Ma no ma no Ma perché deve offendere? Sì la puzza nell'aria dei loro formaggi Ma no ma no ma non stanno offendendo tutto un intero paese Tra l'altro non è il caso in questi giorni di Cerchiamo di essere distensivi Se il suo cazzo di pubblico mi facesse finire la parte Adesso credo che glielo consentirà È pagato da lei Guardi che è un apprezzamento dei suoi confronti L'unica cosa che hanno i francesi è la puzza nell'aria dei loro formaggi No 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 Che è pari solo a quella del loro deretano Che non si lavano mai Ma lasme ma sono luoghi comuni Possiamo tornare a parlare di giovani Ma seriamente Ma allora seriamente Dico che i giovani devono essere espulsi tutti No In Italia devono restare solo i vecchi Ma come solo i vecchi ma no Sì sarebbe il paese dei balotti Ma no ma ci vogliono i giovani Anzi il paese dei barzotti Ecco ci mancava ma non è possibile comunque Non è possibile lo dicerei Ma no non si può Con un paese solo di vecchi tutto sarebbe aperto giorno e notte Perché i vecchi non dormono Ah beh certo Il debito pubblico si risanerebbe di colpo Solo con gli introiti delle farmacie Questo è vero questo è vero sì 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 Non si vedrebbero più in giro quelle merde di tatuaggi Perché se uno di noi li fa sulla pelle raggrinzita L'inchiostro si spande come sullo scottex Ma che brutta immagine Però è vero in effetti sì è meglio In un mondo di vecchi Sì Se uno occupa la tangenziale non è per protetta Certo Ma perché viaggia a un chilometro orari Certo è ovvio sì E dietro tutti gli altri in prima Però non è un mondo che possiamo augurarci no Quello che mette la seconda Lo chiamano Fast and Furious Per dire Questo pazzerellone Però non è un mondo che possiamo Ma neanche immaginare Non lo vogliamo immaginare no I giovani ci servono Ah ma no Nei supermercati i ritmi sarebbero più umani Cioè? Perché in fila alla cassa Ci servirebbero tre ore di tempo per socializzare Avremo Perché? 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 Ma perché? Perché? Perché la vecchia Paga con i centesimi Ah certo Sta lì E dall'altra parte La cassiera Che è un'altra vecchia Quindi certo Per cui fra tutte e due Eh La conta delle monetine diventa più complessa Certo Che un intervento di microchirurgia Certo Ore e ore solo per dare il resto Interventi Poi in ospedale Eh Li farebbero sempre degli ottoagenari Quello è un po' un problema Con tagli a zigzag Eh beh certo Perché la vista Perché la mano è tremante È ovvio Però speriamo di no Ma no Speriamo di sì Ma no I giovani vandali buttano le zuppe sui Van Gogh È brutto lo so però I vecchi non ce la fanno a tirarla Questo è vero Ce la tirano sui piedi E certo Ma poi l'anziano la zuppa non la spreca Certo Perché con la dentiera Cosa cazzo vuoi che mangi giù Il torrone No infatti Certo Tra l'altro un mondo di anziani Sì Sarebbe ad impatto ambientale quasi zero Perché Perché abbiamo il metabolismo di una begonia Ah beh certo Per gli anziani ovvio Che però E così sarebbe contenta anche la Greta Thunberg Che tra l'altro Che ora lascia al posto la sua amica Esatto Vanessa Labalumba No 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 Un po' di rispetto per favore Si chiama Vanessa Nakate De Ugandese Ma sì Ma è quello che ho detto io No Viene dalla Balumbia No Non si dice Non si dice È una bella gnocca Sì è molto carina Però Per cui nel cambio con la svedese No Con la faccia da pagnotta di Larian No la prego No Ci abbiamo guadagnato No No Non si dicono queste cose Ma sì Ma non si dicono queste cose Non si dicono Non si può Ma lei è un'ipocrita Anche lo pensa ma non lo dice Non è vero No no Non è vero Solo che anche questa Vanessa La Leonessa È Che ogni mattina si alza Per cacciare la gazzella Non è così Non è così È una giovane Mentre io voglio un paese Fatto solo di novantenni Ma no ma no Dove se senti un cingolio Eh Da una stanza all'altra Non è qualcuno che tromba Facendoti invidia E cos'è È il rumore delle articolazioni Quando ti giri nel Ah certo Alla stanza all'altra Alla stanza all'altra